Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Mariano, oggi vi voglio mostrare come fare uno screenshot dei Windows 11 in maniera spettacolare, vi vedremo proprio tutte le cose dettagliate di come si fanno gli screenshot, uno dice ah io li so fare, guardate che alcune cose ti stupiranno, e cioè ad esempio come estrarre del testo da un'immagine, come cancellare delle informazioni sensibili da un'immagine, come aggiungere emoji, come aggiungere frecce, vabbè insomma tantissime altre cose, in genere uno si scarica app di terze parti e invece no, tutto all'interno di Windows, sei pronto per partire? Dai, iniziamo immediatamente, non prima di averti ricordato di iscriverti al mio canale, metti mi piace e perché no, manda questo video a tutti coloro che possano, che pensi che possano usufruirne, questo è il mio canale Telegram me, vieni a trovarmi, forza, iniziamo immediatamente, ci spostiamo immediatamente all'interno del nostro Windows, guardate ho messo anche la tastiera su schermo così ti faccio vedere questa cosa che ti voglio far vedere appunto, le scorciatoie per gli screenshot, la prima che ti faccio vedere è quella di tenere il tasto Windows premuto ed insieme lo stamp che magari qualcuno di voi ha sulla tastiera, io ad esempio il mio stamp non ce l'ho sulla mia tastiera e quindi ecco che ti faccio vedere sulla tastiera appunto da schermo, se lo premo succedono tre cose, beh la prima l'avete vista, un piccolo sfarfallio e la seconda è che lo screenshot verrà salvato negli appunti, se vado su un nuovo messaggio ad esempio di posta elettronica e faccio control V vedete come ho incollato la mia immagine, guardate, vedete? E quindi ce l'ho nella memoria ma ancora di più perché quello screenshot è stato salvato nella cartella screenshot, la vedete? Che sta sotto immagini screenshot, vedete? Quindi se lo vuoi poi recuperare basta andare su questa cartella qui. Poi se non ti piacciono tutte queste cose vedremo che nelle impostazioni possiamo fare tante cose in più. Eh ti è piaciuto? Però prima di andare avanti vi voglio parlare dello sponsor di oggi. Eh già oggi è uno sponsor bellissimo che è questo qui. Non chiamarlo gadget è veramente riduttivo, questo è un caricatore bellissimo che unisce tecnologia e stile in modo unico. Il caricabatteria è Nexod RG della Ugreen, una casa che vi consiglio davvero tantissimo. Poi ti lascio qui in descrizione tutto ciò che c'è da sapere. Guardiamolo anche da questa parte qui si distingue questo caricatore proprio per il suo design artistico. È molto molto simpatico. Infatti lo schermo è dotato di emoji interattive, le scarpe sono guardate staccabili in questo modo qui. Le posso staccare e non è soltanto questo perché queste sono magnetiche quindi le puoi adattare dovunque. Quindi è proprio un caricabatterie da come dire esibire a tutti gli altri. Guarda un po' cosa ho. Parlando di prestazioni il Nexod RG è un gigante della ricarica veloce. Infatti è in grado di ricaricare un MacBook Pro Air M2 al 51% in soli 30 minuti. Inoltre il suo mini display, questo qui, non solo mostra lo stato della ricarica in tempo reale, ma lo fa con una serie di espressioni simpatiche che lo rendono davvero molto interessanti. Insomma è davvero consigliatissimo perché a me piace tantissimo. Guardate 65 watt e quindi è un gigante di potenza. Non trascura nemmeno la sicurezza perché la sua scocca è ignifuga con una tecnologia che garantisce non solo il fatto che non si scaldi ma che nemmeno possa provocare danni. Insomma questo caricatore adesso entrerà all'interno del mio zaino perché mi piace tanto e tutti sicuramente mi chiederanno ma che cos'è? Dove l'hai preso? Dove l'hai comprato? da Ugreen. Tutti i link in descrizione. Andiamo avanti. Il prossimo metodo per fare lo screenshot è quello di utilizzare soltanto il tasto print screen, quindi senza Windows. Vediamo che cosa accade nel caso in cui vado su stamp, guardate come entro all'interno di questo strumento di cattura e quindi di default ho il modo rettangolare per fare uno screenshot ma posso ad esempio anche andare su una figura a mano libera e ad esempio catturare soltanto quest'area qui. Notate che anche la tastiera è stata presa. Vado ad esempio su questo screenshot e vedete come ho tutta quell'area che ho appena disegnato. Bene, ma vediamo che esistono anche delle scorciatoie, quindi ad esempio se adesso chiudo la tastiera, anzi no non la chiudo perché ti voglio far vedere la scorciatoia, scusami, guardate adesso però premo sulla tastiera fisica, premo Windows Shift più S, Windows Shift più S mi apre direttamente questa parte qui, la parte di cattura. Una volta che sei qui all'interno puoi scegliere ciò che catturare. Ora ad esempio io, abbiamo visto figura a mano libera, ma vedete che posso fare lo schermo intero, una finestra oppure un rettangolo che in genere è la parte che a me piace di più. Faccio questo rettangolo qui e come al solito guardate come qui sulla destra mi si apre lo strumento di cattura. Vedete? Questo è lo strumento di cattura. Ti voglio far vedere un'altra cosa molto interessante. Entriamo sullo strumento di cattura da Windows. Vedete io ce l'ho qui, basta premere strumento di cattura. Guardate come qui hai altre cose molto interessanti. La prima è ritarda la cattura. Perché questo? Perché a volte può succedere che quando premo qualcosa una finestra mi scompare. Quindi io posso dare un ritardo di 3 secondi nella cattura in modo che lui catturerà 3 secondi, 5, 10 dopo che io ho fatto la cattura. Quindi ad esempio se vado su 3 secondi di cattura, vado su nuovo, vedete come solo dopo 3 secondi mi appare la cattura. Quindi guardate, questo è molto utile nel caso in cui le finestre ad esempio ti si chiudono. Benissimo, guardate come sono entrato all'interno dello strumento di cattura con la figura che io ho catturato. Ma facciamone una un pochino più interessante. Ad esempio sono qui sul sito delle scienze Windows Shift più S e vado a fare questa cattura qui, guardate come qui in basso a destra mi si apre l'immagine, io ci clicco ed ora all'interno dello strumento di cattura che è questo e che apro a tutto schermo, guardate quante cose posso fare. La prima, banale, è annotare. Ad esempio posso mettere delle frecce e dire questa è una zanna, boh non lo so se si chiama così, se si chiama zanna oppure no. Però posso fare altre cose, ad esempio ritagliare le immagini e quindi prendere soltanto questa parte qui dell'immagine e poi clicco qui e guardate come ho soltanto questa parte qui. Oppure se vado ancora sulla cattura, sullo strumento di cattura, lo riprendo, ce l'ho qui, sono sullo strumento di cattura, posso evidenziare qualcosa, ad esempio sul testo, vedete come posso evidenziare, posso scrivere. Adesso io vi scrivo in questo modo un pochino così, un po' fatto male, però altra cosa che posso fare, posso entrare all'interno della modifica in paint, oppure, e questo lo vediamo fra un attimo, se già ti piace questa immagine fatta così, tu puoi copiarla dopo che l'hai modificata, ad esempio gli cancello questa parte, ci metto una freccia così in questo modo qui, poi cosa voglio fare? Ci voglio anche mettere un quadrato in questo modo qua, se mi piace già così, guardate io posso premere copia e poi ce l'ho messa in, ce l'ho in memoria, adesso se faccio ctrl v vedete come ho incollato la mia immagine. Altra cosa che ti dicevo la posso modificare con paint e cioè fare tantissime altre cose in più, come ad esempio aggiungere del testo, non so, questo è un penso di sì, ci metto mammut, poi posso aggiungere altre testo, modificare lo sfondo e fare davvero tantissime cose qui all'interno dello strumento di cattura. Gli dico di non salvare, sono sullo strumento di cattura e guardate quest'altra cosa, estrarre il testo dallo screenshot. Magari mi piace questa parte di testo, come faccio? Vado qui, vedete come ho azioni sul testo, lui blinca e quindi mi riconosce il testo, gli dico copia tutto il testo, ma adesso se vado su un editor di testo, vado su questa senza titoli, faccio ctrl v e guardate come scoperti i primi cromosomi fossili eccetera. Ho estratto del testo dalle immagini, cosa che spesso non sappiamo fare, devo prendere un programma che me lo fa eccetera eccetera. Invece qui tutto davvero molto molto semplice. Altra cosa, vediamo come è possibile togliere delle informazioni sensibili dal testo. Immaginiamo di stare qui su questo sito che vende bigliettini da visita, ma immaginiamo di avere noi un bigliettino da visita e vogliamo togliere il numero di telefono o la mail, quindi dati sensibili. Vado ancora a Windows Shift più S, copio questa parte qui ed eccolo qui, guardate come se vado sempre su azioni del testo e clicco qui, vedete opzioni di correzione, guardate come lui mi richiede su modifica rapida quale cose voglio togliere. Quindi significa che lui mi toglie le informazioni sensibili che magari io non voglio condividere con altri. Quindi data un'immagine su modifica rapida posso scegliere di modificare oppure no, cioè nascondere oppure no alcune informazioni sensibili. Altra cosa importante, spesso mi si chiede anche nei commenti, come faccio a registrare dei video gratuitamente con il mio computer. È molto molto semplice. Windows Shift più S, guardate come qui ho lo screenshot, ma guardate come qui ho la cattura video, ma qui io ci andrei però, perché possiamo scegliere anche altre cose, ci andrei sulla strumento di cattura. Guardate, se vado qui sulla cattura e vado sulle impostazioni, scusate sulle impostazioni, ci voglio andare subito sulle impostazioni, perché guardate come sulla registrazione dello schermo puoi decidere se includere o no l'audio dello schermo. Quindi torniamo indietro, vado sullo strumento di cattura, gli dico nuovo, ora mi sta facendo un video, vedete? Vedete? Sto facendo un video, eccolo qui, vedimi da anche il countdown, sto registrando un video con l'audio. Io in questo momento, siccome ho un mini pc, bellissimo tra l'altro, ho questo mini pc, vedete come non ho il microfono e quindi adesso posso rimuovere la registrazione, stopparla, ricominciarla e così via. Quindi in questo modo qui abbiamo visto anche come poter registrare. Siamo andati prima sulle impostazioni, soltanto per il video, ti voglio far vedere tutte le impostazioni, clicco qui sui tre pallini, vado su impostazioni e guardate come qui puoi avere tutte le altre impostazioni importanti, cioè ad esempio salva automaticamente gli screenshot, dove? Su immagini screenshot. Se adesso noi torniamo qui, vedete quante altri screenshot abbiamo? Perché gli abbiamo detto di salvarlo direttamente. Chiedi di salvare gli screenshot modificati, io l'ho attivato in modo che una volta che modifico uno screenshot, lui mi chiede se voglio salvare o no le modifiche. Aggiungi un bordo ad ogni screenshot, lo posso decidere oppure no? Vedete? Posso aggiungere un bordo e posso anche decidere lo spessore ed il colore per ogni screenshot che faccio, oppure il correttore dei colori degli screenshot o tante tante altre cose in più che puoi lasciare. Guardate come usa il tasto stamp per aprire lo strumento di cattura, quello che dicevamo, cioè se non vogliamo che premendo il tasto stamp mi si apre, posso andare sulle modifiche degli impostazioni di Windows e cambiare anche i tasti permanenti. Vedete come addirittura premere i tasti di scelta rapida che vengono più usati, ad esempio lo posso disattivare oppure no. Io l'ho attivato perché per me lo strumento di cattura è fondamentale e lo uso tantissimo. Benissimo, ti ho fatto vedere tante cose sugli strumenti di cattura. Ti sono piaciute? Spero davvero di sì. Scrivimi qui nei commenti. Ora non mi resta che ricordarti di iscriverti al mio canale. Spero davvero che tu possa avere un buonissimo lavoro, un ottimo studio e una vita splendida. Ti aspetto su Telegram e ti saluto con il mio. Ciao ciao. Grazie, grazie infinite. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.